Siamo all'interno di Norcia, tutto il borgo, lo ricordiamo, è zona rossa entro le mura. Questa è la chiesa del Palazzo dei Cavalieri di Malta, che si trova a 100 metri, ad appena 100 metri, dall'ingresso di Porta Scolana, che è una delle antiche e principali porte d'accesso, via d'accesso alla città. Ecco, queste sono le condizioni in cui purtroppo si trova la chiesa già debilitata dal terremoto del 26 ottobre, e poi caduta in seguito alla forte scossa delle 7.40 di domenica 30 ottobre 2016.